Ci sono sempre un'ottica di spread oppure un'ottica di selezione, stock picking, sicuramente titoli bancari come Mediobanca che è uno dei migliori perché è bancario sì ma al proprio interno c'è un po' d'Italia, di made in Italy perché appunto finanzia molte imprese e quindi possiamo dire è un bancario ma è anche ponderato dall'industria italiana ed è anche il migliore perché è l'unico titolo supera la media mobile a 200 periodi sul giornaliero e quindi non sta sui minimi di periodo. Ma sta abbastanza in alto. Altri titoli che stanno messi in bene sono Intesa e Banco Polare di Milano mentre sulla parte bassa inferiore sono Unicredit e Ubi quindi abbiamo nella parte un pochino negativa di breve periodo Unicredit e Ubi nella parte alta Mediobanca leggermente positivi Intesa e Banco Polare di Milano. Nella parte bassa anche Banca Popolare BPE che sta sulla parte vicina ai supporti non sembra avere la forza di arrivare velocemente alla media mobile a 200 superafico giornaliero. Quindi a seconda delle banche o si fa una selezione in base alla propria view di mercato oppure si fa uno spread andando a rialzo su quelle che ha denominato come più forti e a ribasso su quelle più deboli facendo una parità di peso per quanto riguarda la gamba short e long oppure in base alla propria view di mercato. Grazie a tutti.